Grazie a tutti. Che sto facendo? Sto a lavorare. Come stai a lavorare? Tu non hai il ristorante? Ce l'avevo. E mo? E mo faccio questo sul consiglio del commercialista. Affitto, vertenze che ti fa il personale, amonnezza. Io quanto pagavo, alla fine ho dovuto chiudere e il commercialista questo mi ha consigliato. Scusa, quanto guadagni? Da 30 a 50 euro al giorno, guarda, sono 1.200, 1.500 al mese pulite. Nette? Pulite e senza tasse, senza buoni auto, assicurazioni. Tutto quello che pagavo, non pago più niente, 1.500 puliti. Scusa, e tua moglie che ti dice? Tua moglie è contenta perché ne porta a tre tanti lei, sta dai parti dei Prati, Parioli, lì a Mondezza è un po' più delicata, l'hanno messa lì a fare qualcosa. Scusa, ma tu non hai due figli? Sì. Che fanno? Che fanno? Quello piccolo va a scuola. Hanno preso subito un primo elementare, subito, diretto, senza graduatori, senza domande, senza dove abitare, residenze. E subito, preso diretto. E quello grande, che ti dice? È grande, mi dà tante di quelle soddisfazioni, a parte a scuola, perché a scuola l'hanno preso a lui pure così, gli hanno dato la testa dell'autobus, che costa 500 euro l'anno penso, se sei studente 250, però è sempre gratis. I libri, e poi fa dei piccoli reati, che tanto mi hanno detto che sto coperti da indulto, per cui può tranquillamente farli, non gli succede niente, e porta a casa 4-5 mila euro al mese puliti. Vabbè, fantastico. Fantastico, sì. Scusa, pronto? Sì, sono io, mi dica. Sì, alle 19.30. Perfetto, confermo, grazie. A vederci. Mi ha dato a fare il tatuaggio, così sono più credibile, che io non ce l'ho neanche uno, perché sono sempre stato... Certo, pulito, chiaro. ...e Gerry, mi ha pagato sempre tutto, né tatuaggi, né droghe, né alcol, e questo è il risultato. Vabbè, comunque comunque mi faccio un bel tatuaggio, se vuoi dire. Sì, come facciamo un bel teschio, un drago, ci sta tutto, ma dimmi un po', ma dove abiti? Scusa un po', una casa non ce l'avevi tu? Eh, non ce l'ho più, adesso abito qui in un campo di questi che ci stanno, tranquillo, televisione, acqua calda, ci abbiamo tutto. C'è tutto? Tutto, tutto a posto. Come fa? Sai che a volte ci stanno, ci sfollano, no? Sai, polizia, carabinieri, vengono e fia, carabinieri. Io vi, viene sempre un giorno prima una persona, un funzionario del comune, e ci avvisa che il giorno dopo, eh? E ci dicono già dove dobbiamo andare, pensa, infatti hai visto, è già tutto pronto, quando arriva la polizia, non già sappiamo, è tutto, è tutto a posto, guarda, credimi. Pensa che, mi hanno detto che se mi comporto un po' male, non cose gladanti, un po' male, forse mi danno anche la casa popolare. Ma che stai a dire? Eh. No vabbè, sono contentissimo. Ti saluto, Andrè. No, ma quanto piacere, Fabrizio. Ciao, eh. Oh, alla prossima, Fabrizio. Ciao, se no arriva l'altro e mi trovo, ci accavagliamo, capito? Ciao, Fabrizio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie.